Ho un problema! Prima di venire qua... Posso dire, questo di cognome si chiama Fortuna, ve lo giuro. Cioè non è una battuta, è proprio lui una gag vivente. Che cosa c'è? Mi ha vestito una vecchietta prima di venire qua. Ah, mi ha vestito una vecchietta? Ma come è successo? Stavo venendo qua, mi fidavo a un certo punto, mi è spoccata fuori, si fermatevi in mezzo alla strada. All'improvviso? All'improvviso! Porca miseria, non potevi suonare! Se suonavo si spaventava. Vai! Vai! Cos'hai ancora? Non ne puoi più! Tu non ne puoi più! Ha un problema! Eh, sì, uno, ha un problema. Cosa c'è? Ho scoperto che mio figlio è quello più grande. Eh? È gay. Ah, vabbè, ho capito, non è che, non mi sembra che... Eh, il papà... Il figlio virile! Capito, però so che tu hai altri due figli, sì. Sì, Gianni, quello mezzo. Eh? Un buon lavoro, un bel ragazzo, ha un futuro come calciatore. Quindi? Anche lui. Cosa? È gay. Anche lui, va bene. Eh, c'è il tuo figlio piccolo, la speranza del futuro. Sì, Gianni va bene a scuola, ha un sacco di amici, è un cintura nera di giusto. Eh, allora, dai! Ma cos'è? È gay! Puro lui! Cazzo, ma nella tua famiglia ci sarà qualcuno a cui piace la figa, no? Sì, mia moglie. Perché questo è? È chiaro.